se tu se tu bruciamo lenti sti fiori del mal no probabilmente c'è la lega piuttosto cazzo capo gol bat gol bat matto gol bat matto va porn massimo reroll massimo reroll mood mood matto mood pazzo joltion team rocket you win mentalità cazzo capo con l'attacco di pyrex per forza che devi fare doppio joltion mattanza questa ma che è executor mi da un reroll finale se questo non è rerollino matto brother maruak vediamo perché non me lo considerava il joltion in basso se era buggato ultra ball bruciamo lenti sti fiori del mal